Bene, vediamo se riusciamo a dare un'occhiata a un successivo lavoro. Dove, dove, dove? Quello di Francesco che me l'ha appena inviato. Grazie Francesco, buona giornata, anzi buon pomeriggio a tutti ancora. Visualizziamo un po' di presentazione, sì. Allora, Francesco, va bene, grazie. Tu hai il primo lavoro mandato in italiano, ci sono due collega di prima di te che hai mandato il lavoro in inglese. L'italiano richiede un minimo di sforzo di più, almeno mi deve raccontare delle cose che siano sensate, soprattutto quando si passa alla traduzione. Il lavoro mi sembra buono, mi sembra che tu abbia capito un pochino lo spirito della iniziativa. Altro potrai in qualche modo andare a vedere, considerando il lavoro con l'assignment, quello numero 2. Diciamo che questo è un lavoro comunque avanzato e vogliamo un po' testare la vostra capacità di comprensione che mi sembra sostanzialmente buona. Quindi va bene, a posto, vediamo se vi ho messo le conclusioni. Bene, ok, grazie, buon pomeriggio a tutti, non solo a Francesco e buona giornata.